buonasera a tutti eh vi vedo piccolissimi ma vi vedo vedo che siete lì tutti presenti quindi vi accolgo qui da da Cerno di Ginevra io sono Sonia e non sono sola per questa notte dei ricercatori ma eh sarò coadiuvata aiutata da Davide che prego di venire accanto a me e non vedete doppio ho due Davide oggi vicino a me quindi sarà veramente complicata la comunicazione quindi ho Davide di Croce e e Davide Valsecchi e io Cern e PFL il Politecnico di Lausanna e e TH Politecnico di Zurigo lascio per il momento la parola a Davide di Croce rigorosamente in ordine alfabetico per presentarsi e poi passo il mio microfono a Davide Valsecchi Salve buonasera eh sono Davide eh ho il piacere di stare qui e presentarvi CMS ehm mi ha molto caro questo sperimento ci ho lavorato per sei anni ehm fatto varie cose sviluppo del di uno dei rivelatori che si chiama tracciatore eh analisi di Higgs WW questo abbiamo in comune e mh ora lavoro con design di nuovi acceleratori eh quindi creare nuovi acceleratori più grandi questo ne ha 27 vogliamo farne un altro di cento quindi ti chiameremo il nostro esperto degli acceleratori vuoi dirci qualcosa nel tuo passato per ispirare anche i ragazzi più giovani come sei arrivato qui cosa ti ha condotto alla fisica eh no penso che è molto amore per la fisica e questo è già tanto e quindi magari ne parleremo anche allora passiamo la parola all'altro Davide ciao a tutti io invece sono Davide Valsecchi vengo da Bergamo ma adesso appunto abito qui a Ginevra e lavoro per il poetecnico di Zurigo anch'io come l'altro Davide diciamo sono un postdoc sono ricercatore e ho studiato a Milano e poi durante il mio dottorato sono arrivato al CERN per fare anch'io preoccuparmi di diverse analisi dati e anche diciamo mi sono occupato anche del calorimento elettromagnetico quindi anch'io di una parte del nostro rivelatore poi ne parleremo meglio quindi l'esperto del rivelatore degli elettroni e niente quindi nel senso direi che possiamo anche iniziare subito così media stress beh fammi dire qualcosa che no esatto presentiamo anche la nostra conduttrice per l'ante come ho detto sono 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 veramente sono veramente attorniata da troppi Davide come dicevo scherzavamo prima dicendo che faccio la piccola Golia non la grande Golia e non la caramella allora dunque io sono Sonia vengo da Roma e sono da molto più tempo qui al CERN dei miei due compagni di viaggio di questa sera sono arrivata come studentessa di laurea e appunto se avremo tempo ne parleremo perché penso che sia abbastanza curioso non era nei miei programmi rimanere qui al CERN e invece mi è capitato e non sono più da quando sono venuta non sono tornata in Italia né per lavorare eccetera ci torno in vacanza quando posso e la mia carriera invece si è svolta prima su su fisica degli acceleratori ma poi per il mio dottorato che ho fatto all'Università di Ginevra sono entrata in una collaborazione che mi ha permesso di collaborare per costruire un esperimento di fisica delle particelle un po' sulla filosofia di quello che abbiamo alle nostre spalle ma che è attualmente installato diciamo sin dal 2011 sulla stazione spaziale internazionale se qualcuno di voi conosce Luca Parmitano le ultime attività di Luca Parmitano sono state proprio accanto a questo esperimento per fare delle riparazioni e quindi di fatto io mi trovo tra pur essendo nata come fisica delle particelle elementari mi trovo in mezzo a due fisici delle particelle e sono una fisica delle astro particelle mettiamola così. Quale sarà il mio ruolo? Ecco perché parlo un po' di più perché adesso mi sposterò da questa postazione il mio ruolo sarà quello di condurvi nella parte sotterranea quindi sarò la vostra la vostra guida sotterranea e la vi affiderò invece qui in superficie a Davide D e Davide V e veramente spero che questa sera che è la sera dei ricercatori per voi non sia la la sera dei noi ricercatori ma sia la sera di voi ricercatori perché vorrei che i miei occhi e quello che vi farò vedere eh possano veramente passare lo schermo come se voi foste qui di persona quindi io adesso lascio la parola ai miei due compagni mi vado a preparare sparisco un attimo per mostrarvi gli attrezzi di lavoro dovrò indossare un elmetto delle scarpe particolari ma ve ne parlerò più avanti quindi buona continuazione e speriamo che vi divertiate a presto dopo ok ok allora mentre appunto abbiamo questi spostamenti adesso Sonia dovrà spostarsi verso l'ascensore poi ne parleremo ce lo farà vedere c'è questo in questo momento possiamo subito dire una cosa interessante cioè questo sembra un pavimento giusto Davide sembra un pavimento molto solido di cimento alle nostre spalle abbiamo anche questo enorme fondale che non è un vero diciamo non è il nostro vero esperimento ma lo rappresenta in scala uno a uno e ma sotto i nostri piedi cosa c'è c'è un enorme pozzo è un enorme pozzo molto grande con tutta la zona che voi vedete attorno a noi questo pavimento grigio in verità è un pavimento semovibile diciamo che può scorrere completamente all'interno della di quella parete della parete in fondo e diciamo sotto i nostri piedi c'è questo pozzo profondo 100 metri e largo circa credo almeno 25 30 adesso più o meno e pensate che in questo pozzo è stato quello che è stato utilizzato per spostare diciamo per spostare c'è messo una volta che è stato costruito il nostro rivelatore poi adesso ne parleremo è stato spostato diciamo sotto terra e al posizionato in un posto molto speciale che è la caverna di cimes ma cosa succede in questa caverna magari ne avete già parlato noi adesso iniziamo un po' a citare alcuni argomenti poi diteci voi se l'avete già ne avete già parlato prima o non so cosa succede in questa caverna come mai abbiamo dovuto portare questo sperimento così tanto sotto terra è pericoloso non è pericoloso assolutamente continui ok allora abbiamo dovuto spostarlo lì perché lì abbiamo una cosa molto speciale che è l'acceleratore quindi il nostro acceleratore il lhc large adron collider quello che fa è accelerare dei protoni ad altissima energia alla velocità della luce ha un'energia di circa 6.5 tere elettron volt questa energia sembra un numero così tere elettron volt può sembrare diciamo un'unità di misura abbastanza strana verità è un'unità di misura che per noi è molto importante e rappresenta un'energia molto grande per delle particelle elementari e all'interno quindi grazie zolta perfetto e questo acceleratore come vedete copre un'enorme aria è lungo di 7 chilometri e fa collidere questi protoni tra di loro in diversi punti quindi la cms atlas e lice adesso adesso vi facciamo anche vedere una animazione di questo tipo di collisioni a me piace molto questo questo quadro vi fa vedere il primo circolatore circolare il il booster ps va iniettato all sps questo a circa di 7 chilometri questo acceleratore e non è un collisore quindi accelera le particelle in un unico senso poi vengono iniziati in nei due sensi nelle lhc che a 27 chilometri qua potete vedere la della pista di atterraggio di ginevra sembra una cosa piccolissima vicino a questa macchina e abbiamo quattro punti di collisione qua sotto abbiamo atlas e qua abbiamo alice cms è lassù dove siamo noi e qua sotto abbiamo lhcb vicino all'aeroporto siamo abbastanza lontani diciamo dalla dalla zona centrale del cerco i nostri colleghi di atlas sono molto è molto più comodo diciamo per i nostri colleghi di atlas avvicinare il cerne sarebbe questo esatto il cerne è esattamente quella nave dell'impero galattico e poi abbiamo pure un altro che dall'altra parte di sps con la suo più o meno quando quando faccio vedere allora diciamo che può sembrarvi molto che è magari difficile da vedere ma il concetto è che il diciamo l'apparato sperimentale del cerne sui acceleratori coprono un'area enorme e quindi la risposta alla mia domanda iniziale del perché si trova a 100 ms terra in verità è molto semplice è dovuto al fatto che in superficie abbiamo moltissima gente non moltissima comunque c'è questa è la campagna francese svizzera ma comunque è molto scomodo avere un acceleratore in superficie poi devi scomprare tutti esatto e non è una questione molti pensano pensano che sia una questione diciamo per proteggersi dalle radiazioni o per ma non è esattamente quello il problema perché in genere è sufficiente qualche metro di cemento armato io vi vorrei far vedere una cosa molto interessante adesso che è veramente il nostro acceleratore le nostre cavità acceleratrici si chiamano cavità di radiofrequenza non so se potete accompagnare qui ecco questa è la ref cavity quindi la cavità di radiofrequenza superconduttrice di lhc noi lo abbiamo questo in un'unica anyway and scientific discussion e quindi la cavità acceleratrice comunque questo genera il campo elettrico che dà energia alle particelle spinge le particelle perché la forza di lorenz è detta che l'unica forza che può dare guadagno di energia è il campo elettrico però abbiamo bisogno del campo magnetico per guidare le particelle per farle curvare dentro il nostro acceleratore circolare quindi abbiamo due famiglie di magneti una si chiama il dipolo che ha il nord sud e questo è responsabile per fare la il cambio di direzione la curvatura in lhc ma in una cosa di base cioè le particelle lasciate da sole vanno esattamente dritte vanno dritte l'unico modo per curvarle a sottoporlo a un campo magneto particelle cariche cariche e quindi lhc ha fatto due terzi da questi magneti di polari e in quanto la ref cavity la cavità di radiofrequenza è solamente un posto già che le particelle vanno alla velocità della luce e l'acceleratore a 27 chilometri significa che fa un circa 11 mila giri al secondo quindi non c'è bisogno di avere molte cavità di radiofrequenza ma abbiamo bisogno che le particelle ritornino al stesso punto quindi abbiamo di avere questi magneti perfetti fatti molto bene e con correzione con campi perfetti perché le particelle non possono essenzialmente ci serve che torni allo stesso punto perché da un lato come dicevi vanno così velocemente che vogliamo cioè come dire devono riuscire nella sua traiettoria e continuare a circolare così che in modo tale che in ogni giro noi a ok sono le prende una parola davide sì sì stavo stavo ascoltando mi ero posizionata probabilmente si è visto in un altro posto ma poi ascoltandovi veramente non ho potuto evitare sono venuta vicino ad un magnete ora questa è una diciamo è un vero magnete ma non è usato perché è semplicemente assemblato ma mancano tante parti ma diciamo potete vedere un pochino la struttura allora quello che riconoscete qua che sto indicando con le due mani sono i tubi dei fasci e sono effettivamente proprio i tubi dove le particelle vanno in un senso e nel senso opposto quindi passano in senso opposto da questa in questi due tubi vi faccio vedere un tubo perché qui è possibile smontarlo nell'lhc no eccolo qua questo è un tubo del fascio dell'lhc vedete la sezione all'incirca di quattro centimetri diciamo così quattro cinque centimetri ma dovete pensare che la sezione del fascio di particelle che passa invece è più piccola della sezione di un capello umano quindi veramente diciamo uno direbbe c'è tanto spazio dentro però poi lascerò i miei colleghi spiegarlo meglio parlavano di particelle parlavano di cariche e un po' come le persone ci sono persone antipatiche che non vogliono stare insieme persone che vogliono stare insieme le particelle di cariche uguali quindi per esempio particelle tutte positive come quelle che usiamo qui nel nostro lhc si respingono quando sono messe tutte insieme questo vuol dire che respingendosi tendono ad allargare la sezione del fascio quindi è per questo che abbiamo bisogno di questi magneti di cui parlavano davide d e davide v che servono sia per curvare la traiettoria delle particelle perché se non andrebbero dritte ma anche per come dire strizzarle un po' come quando pensate l'arancia per fare il succo d'arancia quindi pressarle in questo senso o pressarle in questo senso lascio ai miei colleghi può spiegare quale tipo di di magneti di quale tipo di magneti si tratta loro parlavano dei magneti che curvano la traiettoria questi si chiamano di poli e li possiamo riconoscere qua faccio inquadrarli da noemi questi sono i cavi dove passa l'elettricità ben 14 mila esatto e sono cavi superconduttori e questa e questi cavi in realtà adesso li vedete tagliati per vedere meglio come com'è la sezione riconoscete un gruppo qui poi c'è un buco vedete c'è un buco anche sotto e un altro gruppo dall'altra parte ecco perché si chiamano di poli questi cavi sono messi in una maniera tale per cui il campo magnetico che si crea intorno a questi tubi permette di poter curvare la traiettoria in un senso o anche nell'altro se fossero l'altro tipo avreste quattro gruppetti io lascio continuare la descrizione degli acceleratori ai miei colleghi e mi vado a posizionare invece vicino al modello dell'esperimento così potrò farvelo vedere anche se soltanto un modello a tra un poco ok solo per continuare questa descrizione dei magneti abbiamo allora ho sentito non so se era Roberto che stava spiegando che le particelle vengono accelerati in pacchetti quindi abbiamo un pacchetto e ha la sua distribuzione e ogni volta che passa dentro un dipolo loro sentono questo campo magnetico di otto tesla di forma differente ogni particella la sente un po' differente e c'è un effetto che noi lo chiamiamo dispersione quindi le particelle si spargono come se fossero un uno spettrometro e quindi per far con che le particelle rimangano dentro il nostro beam pipe dentro il nostro tubo e cosa facciamo usiamo i quadrupoli che è un altro un altro corretto è un correttore e quindi può focalizzare da una parte come ci sono le equazioni di maxwell quindi possiamo solo correggere da una parte ma non dall'altra quindi se focalizziamo da una parte di focalizza dall'altra allora abbiamo bisogno di un altro come una serie di lenti lo so che lo so che sei una significazione per il nostro esperto di magneti però come una serie di lenti e quindi abbiamo bisogno di un secondo quadrupolo che focalizza allora dall'altra parte e defocalizza dall'altra e quindi lo mettiamo questi quadrupoli intorno all'acceleratore e così adesso avranno un movimento oscillatorio ecco questo è il quadrupolo vedete e questo è un quadrupolo superconduttore e adesso le particelle avranno un movimento oscillatorio noi chiamiamo questo movimento betatron tanto in una direzione ma anche dall'altra e sarà quando uno è massimo l'altro sarà minimo e così va e riusciamo diciamo a tenerle stabili dentro dopo vari giri diciamo non iniziano a disperdersi troppo e a uscire dal tubo perché anche perché diciamo qual è il problema spieghiamo una cosa che queste particelle comunque sono piccole sono pochissime però sono molto energetiche se escono dal loro tubo vanno a scontarsi con il materiale di cui è fatto chiaramente il problema è che non è che loro distruggono il problema è che lo scaldano giusto sì ma pure perché vogliamo avere una densità vogliamo avere la collezione migliore diciamo le collezioni migliori per fare i nostri esperimenti in cui li facciamo scontrare chiaramente però è anche un problema di protezione dei magneti giusto e dell'acertura in sé ma il problema più grosso è quello diciamo ottenere una buona luminosità il fatto che davide noi non vediamo scusate mi viene ogni tanto di parlare in inglese perché ho la la persona che mi sta aiutando a fare questa visita che non si vede ma che poi vi farò vedere che è Noemi e che ringrazio è con lei comunico l'inglese quindi ogni tanto mi perdonerete se parto con l'inglese no vi stavo osservando ed è bellissimo vedere questa questa interazione non di particelle ma di due fisici che parlano di qualcosa a cui a cui loro piace e quindi di queste di delle di come agiscono i campi magneti eccetera è molto professionale io avrei fatto così per indicare l'azione del famoso quadrupolo però effettivamente c'è quello che stavate dicendo voi se permettete così posso fare l'entrata nella zona sperimentale volevo far vedere perché so che poi dopo parlerete ampiamente del rivelatore volevo far vedere un modellino del rivelatore che vedete è ha una forma cilindrica torniamo al famoso al famoso tubo dei fasci abbiamo detto che ce ne sono due che che vanno in parallelo ma a un certo punto vogliamo fare le collisioni per fare le collisioni questi due fasci di particelle ho anche sentito dire che è stato ben spiegato che i fasci di particelle si muovono in pacchetti quindi potete immaginare veramente come il traffico in autostrada tanti bus che si susseguono uno dietro l'altro e le persone all'interno dei bus sono i protoni quindi ogni bus è un pacchetto ma se continuano a scorrere in maniera parallela non farete male collisioni cosa che giustamente non vogliamo sulle autostrade ma qui invece noi vogliamo scontrare la materia e quindi cosa facciamo a un certo punto lì incanaliamo in uno stesso e unico tubo per fare le collisioni tra pacchetti cioè tra bus questo tubo io adesso non credo che qui si veda la luce comunque è uno forse noemi mi può aiutare a farlo vedere è comunque forse vedete la luce non so se si vede si vede esatto ecco questa è una parte la metà del tubo e l'altra invece viene dall'altro lato e dove finisce la luce quindi è praticamente il centro dove avviene la collisione ora vedete io vorrei dare un esempio che so che non è scientifico poi o meglio è solamente una rappresentazione pittorica ma mi interessa che abbiate bianchiara l'idea immaginate un kebab che ormai tanto noi italiani abbiamo imparato a mangiare ad apprezzare il kebab è uno stecchino con la carne tutta intorno bene prendetelo e mettetelo in orizzontale ottenete più o meno questa struttura quindi tutto il rivelatore costruito intorno è di fatto la carne del kebab non voglio commentare il resto perché tanto verrà commentato dopo però effettivamente questo ci permette di poter vedere scusate ci fai vedere anche magari la luce del magnete se a meno poi lo mostriamo si si con calma allora dicevamo che ci sono mentre mentre sonia si riprende la tosse diciamo che ci sono dei magneti nell'acceleratore ma abbiamo anche un altro magnete all'interno della del nostro rivelatore anche lui superconduttore esatto ed è molto grande è molto più grande di un magnete dell'hc però non più potente però esatto è molto più grande come volume pensate che è il campo magnetico diciamo il magnete con la densità di energia nel campo magnetico mi pare più grande del mondo o qualcosa del genere e arriva fino a 4 tesla all'interno al centro del rivelatore mentre all'esterno fino a 2 ed è un solenoide in questo caso disposto in senso orizzontale quindi crea un campo magnetico diverso e cosa serve secondo voi nel senso questo campo magnetico cosa serve davide se lo chiedete visto che non posso chiederlo al pubblico aspettate non fate questa cosa non fate questo gioco perché altrimenti ho ripreso si è ripresa la soglia ve lo lascio fare ve lo lascio fare dopo ok no effettivamente quello che volevo dire è che vi lascio parlare dopo di questa cosa qua quello che volevo dire è che effettivamente quello che dicevi tu il campo magnetico all'interno segue la direzione del fascio quindi a questa direzione qui e se vogliamo continuare l'analogia del cibo questo magnete potrebbe essere un bel cannolo non riempito ok quindi tipo un cannolo siciliano senza senza la ricotta dentro perché effettivamente è un cilindro o cavo ora io quello che faccio perché vi lascio parlare del rivelatore e cercare di descrivere se mi riprendo la parte di entrata dicevamo questo campo magnetico serve descriviamo l'entrata noi mentre ok ma non preoccuparti magari la descriviamo noi mentre tu vai avanti così magari ho anche una caramella ok ho anche una caramella perché qui il fatto è che bisogna parlare o la sensazione di dover parlare in maniera molto forte perché c'è rumore no noi ti sentiamo benissimo sentiamo bene quindi magari parlo un pochino più piano più calmo che tanto voi mi sentite lo so allora come avviene l'entrata come avviene l'entrata questa è la porta di entrata alla zona sperimentale e abbiamo diversi tipi di porte questa è quella diciamo esterna ed è di colore verde ma ci sono anche porte di colore giallo o di colore rosso che servono a indicare quanto siamo vicini alla zona sperimentale che è poi la caverna questa porta è la protagonista se qualcuno dei nostri spettatori delle nostre dei nostri attendista ha visto angeli e demoni compare in quel film dove praticamente avviene qualcosa non voglio fare spoiler quindi non mi metterò a raccontare la storia ma vi dico che per passare questa porta adesso lo vedrete bisogna effettuare tre check tre controlli uno controllo di peso c'è una zona qui con un quadrato con dei puntini gialli dove io mi posizionerò e il sistema verifica che effettivamente siccome questa è una porta di entrata per persone non per materiale che effettivamente insomma io ho un peso che corrisponde ad una persona umana chiaramente non vedo e meno male il mio peso però quantomeno il sistema lo verifica secondo check noi umani siamo intelligenti quindi se il sistema mi impedisce di portare materiale io dico me lo metto in un sacco in un uno zaino dietro le spalle dentro impossibile farlo anche qui perché nel momento in cui entro e si chiudono le porte si attiva un sistema di raggi infrarossi che verifica che non sto introducendo materiale all'interno terzo eh check che viene fatto è il controllo dell'iride e questo è personale è un controllo appunto eh dove bisogna dare ovviamente eh le 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 i connotati dell'iride depositati al nel database del CERN e questo identifica effettivamente la persona che sta entrando questo è alla base del film angeli e demoni io lancio soltanto una piccola cosa per fare questo controllo dell'iride l'occhio deve essere vascularizzato vuol dire che ci deve passare il sangue non dico altro perché non voglio fare spoiler quindi adesso provo ad entrare sperando che il sistema mi accetti per fare l'entrata uso il mio dosimetro personale cos'è un dosimetro in effetti è un rivelatore anche lui misura la radiazione che lo attraversa quindi se io lo me lo porto su di me di fatto misura la radiazione che che io recepisco ehm dobbiamo controllarlo una volta al mese siccome noi accediamo alla zona che non è pericolosa ma che comunque ha la possibilità di avere della radiazione siamo obbligati ad avere questo controllo con questo mi faccio riconoscere si apriranno le porte e farò il mio check. Volevo giusto aggiungere che appunto tutta questa sicurezza è il motivo esatto è appunto che all'interno abbiamo appunto una possibile esposizione a radiazioni più ci avviciniamo al rivelatore più l'esposizione può diciamo aumentare però la cosa buona di CMS è che si può arrivare fino alla caverna diciamo di servizio quella dove andremo oggi anche durante le collisioni infatti in questo stesso momento sono in corso le collisioni del run annuale ehm di avion che in italiano essenzialmente significa che stiamo in questo momento non facendo collidere protoni con protoni ma protoni con ioni di piombo o piombo con piombo. Oggi quest'anno piombo piombo. Essenzialmente in questo momento stiamo facendo scontrare ioni di piombo con ioni di piombo quindi sono delle collisioni anche molto forti quindi attenzione col dosimetro misura bene. No eh stiamo sentite? Sì. Ah ok sì sì no no stavo sentendo stavo seguendo perché sì 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 infatti poi magari adesso che andiamo sotto in un momento che potrò descriverlo mostrerò per quale motivo possiamo noi qui a CMS scendere giù mentre gli altri esperimenti come appunto dicevate voi sono al momento ehm impediscono la discesa. Avete visto anche dei simboli di pericolo sul ad esempio per i pacemaker e questo è esatto questo perché essenzialmente vicino alla caverna comunque il campo magnetico del generato dal suonodo di CMS e raggiunge comunque due tre mili Tesla mi pare nel punto più vicino e questo può interferire con carte di credito orologi ma anche con il pacemaker e quindi essenzialmente non bisogna scendere nella caverna se si è sensibile. Una protesi ferromagnetica o pacemaker qualsiasi cosa che impianto che c'è l'elettronica o cose da dire. Allora parlare un po' con quella è la nostra. Esatto. Con l'estero di nostro strato preferito. Sonia ci puoi far vedere l'ascensore o? Esatto probabilmente tu. Sì 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 no no è che ho avuto ho avuto sì esatto no no c'è stato un momento in cui non si sentiva più niente non so avete sentito la descrizione delle porte delle altre porte? L'ho fatto vedere le altre porte di entrata qui che sono opposte a quella dove sono entrata io e dopodiché stavo mostrando poi a un certo punto la linea è andata via e stavo mostrando che invece questa porta blu è la porta del materiale quindi di fatto uno poggia il materiale oltre questa porta fa il controllo per entrare e poi lo recupera da questa parte. Eh adesso entro nell'ascensore come appunto dicevate voi. Qual è qual è la l'altezza? Dove stai? Stai a zero? Allora stiamo adesso a zero e siccome qui la connessione si interromperà a un certo punto non vi vi mostrerò ok vorremmo mostrarvi fino a quando non si interrompe però poi vi mostreremo da sotto arriviamo a ottantasette virgola nove metri di profondità per non non andiamo a meno cento perché in realtà guardate qui noi abbiamo vari livelli zero che la superficie meno uno che è circa meno ottanta metri meno due che è circa meno novanta e meno tre che è circa meno cento noi andiamo al meno due che è il livello intermedio quindi io adesso quello che faccio chiudo le porte dell'ascensore e ci vediamo dopo e niente vi saluto ci vediamo tra un pochino appena ritorna la linea io volevo volevo giusto completare una piccola introduzione che stavamo dicendo prima che secondo me è importante per capire una cosa della prossima della prossima sala che visiteremo quando dovete immaginare questi pacchetti di particelle che quando vengono diciamo fatti collidere all'interno del nostro rivelatore sono in verità moltissime nel senso che non sono dieci protoni che sono all'interno di questo di questo pacchetto ma sono circa dieci alla quattordici dieci alla tredici non mi ricordo mai di preciso dieci alla quattordici perché nel senso non mastica tutti i giorni in ordine di grandezza sono circa diecimila milioni di più ok sono molti di più sono numeri enormi sono numeri davvero enormi da immaginare però pensate che questo numero è piccolissimo cioè all'interno di una bombola di idrogeno che potete comprare a supermercato no però potete comprare diciamo per fare delle attività con questo idrogeno all'interno avete circa una mole di particelle una mole è un'unità di misura che rappresenta un numero di avocado di particelle e il numero di avocado sono 10 alla 23 quindi pensate all'interno di una bombola di idrogeno di 20 litri voi avete qualcosa come 10 alla 10 pacchetti di diciamo di lhc c'è un numero enorme 10 a 10 è un numero davvero enorme e ognuno di questi pacchetti ha circa 10 alla 13 protoni sono scale e scale ordine di grandezza che non riusciamo neanche molto a immaginare però se è abbastanza importante pensare che in tutta la storia di lhc tutti i protoni che andremo ad accelerare a far collidere verranno praticamente tutti dalla stessa bottiglia di idrogeno grande così e questo perché la materia è davvero piena di particelle cioè non abbiamo il numero inimmaginabile di particelle di cui siamo fatti e noi facciamo scontare 10 alla 13 però voi pensate ok se ne scontano così tante ogni volta che due pacchetti si incontrano in verità avviene diciamo un finimondo in verità no perché lo spazio è vuoto le particelle sono così piccole che si praticamente non si intersicano e come fosse voi lanciasse un pacchetto di spaghetti contro un altro pacchetto di spaghetti e milioni di spaghetti contro altri milioni di spaghetti e nessuno si scontrasse praticamente infatti per riuscire a farle scontare dobbiamo come diceva prima davide focalizzarle sempre di più con questi magneti e a un certo punto vicino all'interaction point abbiamo quello che chiamiamo inserzioni di low beta quindi qua specificamente a lhc abbiamo i tripleti di quattro poli e quindi loro hanno la funzione di squeeze di schiacciare esatto di avvicinare questi spaghetti che si avvicinano sempre di più nell'interazione che poi c'è il tripletto dall'altra parte che recupera e fa grazie zolta io non vorrei fare io praticamente no Italia sì lui conosce l'italiano fammi finire giusto una cosa velocissima in questo punto di interazione vedete che questo è un po rappresenta un po la larghezza del fascio però in scale comunque sì nel centro è molto più schiacciato ma comunque di questi milioni di particelle solamente circa 40 ogni giro ogni pacchetto ogni giro 40 particelle si scontrano e cosa fanno questo quello che volevo dire no ma volevo fare la guastafeste volevo dire non vorrei fare la guastafeste estate promuovendo il fatto che la materia ha tante particelle che quindi eccetera e poi alla fine riusciamo a fare solo 40 50 collisioni ma possiamo fare tantissimi giri cioè noi facciamo 11.000 giri al secondo e quindi essenzialmente ogni 11.000 giri cioè ogni secondo possiamo farle scontare 11.000 volte in verità poi mettiamo tanti pacchetti all'interno acceleratore circa 3.000 quindi riusciamo a raggiungere una una frequenza molto quindi e come abbiamo quindi nella mia nella mia figura nella mia diciamo immagine di prima abbiamo circa 3.000 bus che si scontrano uno dietro l'altro solamente due passeggeri si fanno male esatto esatto ma e poi alla fine ma in realtà cioè è una cosa che a me tuttora impressiona nonostante è chiaro che diciamo così noi siamo tecnici di questa di questa materia e il fatto che tu parlavi appunto dei giri che si fanno al secondo a me piace ricordare che di questi scontri se ne fanno 40 milioni al secondo che è qualcosa che se ci pensiamo è inimmaginabile cioè un tempo di un secondo che è qualcosa come fare questo movimento in questo tempo all'interno del nostro LHC ma anche degli altri esperimenti si hanno 40 milioni di scontri di pacchetti cioè di questi bus e risultato per ogni scontro di bus sono solo 50 collisioni quando siamo partiti con dei numeri come dicevate voi di 10 alla 11 cioè un 1 seguito da 11 0 quindi è veramente volevo giusto diciamo introdurti l'argomento per la prossima stanza dove andrai e questo diciamo si collega molto bene perché anche se sembrano così poche in verità sono tantissime informazioni da salvare e poi dato questo aggancio ti lascio continuare tra l'altro sì sì noi fate prego tra l'altro dove stai adesso esattamente qual è la allora adesso in questo momento mi sono fermata dunque sono innanzitutto sono a meno 87.9 come vi dicevo e qui abbiamo l'indicatore esterno dell'ascensore sono appena uscita dall'ascensore che probabilmente è ancora qui si dovrebbe aprire come vedete e sono di fatto in questa stanza che è importante perché perché questa stanza siamo già nella zona sperimentale ma è una zona sovra personalizzata cioè vuol dire che l'aria viene pompata fuori e questo succede anche per tutta la gabbia dell'ascensore quindi è una zona di sicurezza se succede qualcosa all'esterno che cosa vuol dire dove adesso io accederò per esempio un incendio abbiamo le porte ignifughe che ci proteggono ma si può creare fumo oppure ci possono essere perdite di gas perché noi utilizziamo gas per gli esperimenti anche e per anche per l'acceleratore quando parliamo di elio per raffreddare parliamo di azoto o parliamo di argoli sono tutti allo stato liquido quindi funzionano da liquidi ma sono molto freddi vengono raffreddati quindi nel momento in cui vanno a temperatura ambiente diventano di nuovo gas e sono dei dei gas che occupano la zona occupata normalmente dall'ossigeno che vuol dire che possiamo avere dei fenomeni di asfissia quindi dobbiamo andare via dalla zona dove questo succede questa stanza in particolare e l'ascensore sono delle zone di sicurezza perché nulla di questi gas o del fumo può entrare a causa della sovrappressurizzazione perché l'area ripeto viene invece pompata all'esterno quindi il messaggio è che in caso di evacuazione bisogna venire qui e in caso di evacuazione una cosa che mi piace dire al contrario di quello che succede nella vita di tutti i giorni almeno per l'LHC perché in altre zone invece del 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 CERN si fa come nella vita di tutti i giorni non si può uscire usando le scale siamo in profondità non si può tornare su perché io sono a circa meno trenta piani di profondità non potrei certo tornare su con il fumo con il gas perché anche le scale non sono protette quindi l'evacuazione deve essere fatta obbligatoriamente con l'ascensore e se non funziona l'ascensore si aspetta qua perché la zona è chiaramente sicura ora io anche perché ho visto un po' allora quello che faccio entro nella zona sperimentale vi mostro un attimo velocemente il i vari livelli e nel momento in cui entro nella sala di controllo dico già i miei colleghi scusate nella sala quella che chiamiamo la county room dove ci sono praticamente dove c'è una parte del cervello dell'esperimento cioè l'elettronica che legge tutti questi dati che vengono raccolti dall'esperimento visto che lì c'è veramente molto rumore vi mostrerò delle immagini lascerò la parola ai miei colleghi e mi terrò soltanto un commento su una parete che so che davide di conosce bene quindi entro un attimo tengo ancora un attimo la parola e dunque siamo siamo qui allora dunque se volete vedere il meno 100 ci proviamo abbiamo detto che siamo a meno 90 forse riusciamo a vedere il meno 100 chiedo a Noemi vedete questo questo pavimento nero con delle strisce bianche e nere ecco quello almeno 100 ok non so se riuscite a vedere ditemi un po' i due Davide si vede anche la parete grigia si vede tutto allora quella parete grigia con i blocchi è una parete diciamo così che viene distrutta ogni volta che c'è un'interruzione del fascio che cosa vuol dire o meglio quando c'è un'interruzione lunga noi la chiamiamo shutdown cioè il fascio di particelle viene fermato l'LHC si ferma succederà fino novembre e di solito per tre mesi ogni anno ci si ferma e allora togliendo quei blocchi che vedete che sono blocchi di cemento si ha un corridoio che è lungo sette metri che porta direttamente alla sala sperimentale alla sala dove c'è l'esperimento perché noi lo chiudiamo lo chiudiamo perché chiaramente quando ci sono le collisioni come vi spiegavano i miei colleghi si scontrano le particelle ci può essere un fondo radioattivo quindi ci dobbiamo proteggere per fare questo abbiamo una parete spessa di cemento spessa sette metri che isola la zona dove sono io da quella sperimentale ma quando non ci sono collisioni chiaramente vogliamo avere degli accessi questo non è l'unico accesso ma è comodo perché se Noemi mi inquadra invece in alto vedrete che c'è praticamente siamo al di sotto noi lo chiamiamo pozzo in gergo è di fatto un non so una specie di buco profondo appunto cento metri e con una gru noi possiamo portare sopra e sotto il materiale attraverso questo pozzo quindi portiamo il materiale da sopra in basso o viceversa e possiamo accedere alla caverna quando non ci sono questi blocchi grigi di cui vi parlavo diciamo che è il fratello piccolo del pozzo dove siamo invece io e Davide che è molto più grande che invece dove è stato proprio portato sotto il territorio RCMS io ho una foto di questo ve la faccio vedere allora questa è una vecchia foto quando della caverna sperimentale quando l'esperimento non era ancora installato e come vedete c'è un altro pozzo c'è un buco che va verso l'alto ora dovete immaginare che questo buco sopra che normalmente quando appunto non ci sono le collisioni non c'è fisica come diciamo noi è aperto in questo momento è chiuso perché c'è un pavimento che scorre e lo chiude ed i due Davide e i miei due colleghi sono proprio su questo pavimento quindi ed è questo è molto più grande per quale motivo perché questo diametro corrisponde al diametro dell'esperimento e lo vedete anche alle spalle dei miei colleghi e il diametro di questo esperimento è di 15 metri ora 15 metri vuol dire ogni piano normalmente di un palazzo sono tre metri quindi vuol dire un palazzo di cinque piani quindi l'esperimento infatti dalla foto che avete alle spalle Davide D e Davide V potrete mostrare che l'esperimento appunto è molto grande qualche altra foto ma soltanto perché tanto poi voi ne avete a Iosa è quello di dire che qui c'è un'operazione in cui abbiamo sceso l'esperimento non so se ne avete parlato del fatto che l'esperimento è stato costruito in superficie però magari ve lo lascio fare così io comincio a entrare nella sala eh della dell'elettronica e vi lascio parlare un attimo di questo oppure di descrivere un pochino l'elettronico oppure ce la lasciamo magari eh Sonia facci vedere un po' i corridoi della counting room e così vi faccio allora dopo a rivelatore sì vi dico vi dico che io mi passerò nei corridoi questa è una cosa molto speciale perché normalmente quando venite in visita qui nei corridoi non ci potete andare quindi questa è una cosa speciale per voi delle visite virtuali se si apre la porta allora una piccola spiegazione per capire che cosa succede in questa stanza e come mai è così importante allora dicevamo a qualche numero ma senza esagerare succedono 40 collisioni ogni volta che si scontrano le nostre particelle ci sono 40 milioni di collisioni al secondo ora per salvare tutte queste informazioni immaginatevi di fare tante foto col telefono a un certo punto finisce la memoria eh per salvare tutte queste informazioni pensateci dovremmo avere circa un megabyte per ogni evento quindi un megabyte per 40 milioni di volte al secondo dovremmo salvare circa terabyte migliaia di terabyte al secondo ora però pensate che un megabyte non è tanto la ehm la dimensione cioè come dire se dovessimo salvare davvero tutti gli eventi dobbiamo salvare petabyte di informazioni ed è impossibile salvare petabyte di informazioni perché non abbiamo neanche le fibre abbastanza veloci per riuscire a leggere questi questi dati dal nostro rivelatore ogni 25 nanoseconde viene una collisione non c'è abbastanza tempo quindi abbiamo implementato un sistema che è in grado di decidere velocemente se un evento deve essere salvato o no non li salviamo tutti è impossibile dovremmo salvare qualcosa come dei terabyte ogni secondo immaginate quanto è terabyte è molto ora cosa succede quindi all'interno del nostro rivelatore c'è un delle schede elettroniche intelligenti che riescono a misurare velocemente alcune quantità e decidere se un evento è importante da essere salvato o meno e fare tutta la computazione di ricostruzione di queste di queste particelle questa fa una piccola ricostruzione e pensate che questo sistema lo fa in due microsecondi giusto che essenzialmente è un tempo enorme sono 200 collisioni circa quindi nel frattempo che questo sistema elettronico che nella stanza in cui si trova una sogna fa questo calcolo all'interno del rivelatore viene tenuta una memoria una specie di memoria a breve termine in cui manteniamo le informazioni di ogni sensore quando il sistema della stanza decide che un evento è bello ci sono c'è un elettrone c'è un muone c'è qualcosa di energetico allora viene mandato questo segnale tutto il rivelatore di ogni singola sua parte di ogni sua parte viene letto tutte le vostre informazioni passano attraverso queste fibre ottiche che vedete nelle immagini e raggiungono altre altri computer e non è finita lì perché questo comunque ha un rate una frequenza di circa centomila eventi al secondo queste informazioni comunque troppe sarebbero troppi gigabyte e quindi cosa viene fatto vengono mandati queste informazioni in superficie quindi con altri cavi in superficie a questo punto abbiamo un sistema di computer un migliaio di computer anche di più in cui essenzialmente abbiamo più tempo perché non abbiamo più da stare dietro all'acceleratore abbiamo circa un secondo e un secondo lì viene fatta essenzialmente una selezione finale e vengono salvate circa centinaio di eventi al secondo ma quegli eventi sono salvati per sempre qui vediamo sì vai vai no volevo volevo soltanto dire perché sentivo il discorso ma magari per i più giovani parlavate di terabyte ora tra un gigabyte che forse loro hanno sentito un terabyte c'è un fattore mille e tra un megabyte è un gigabyte c'è un fattore mille ora un libro un libro di quelli cartacei bello grosso sta in un megabyte quindi qui stiamo parlando di un milione di libri informazioni esatto al secondo e quindi ma nemmeno al secondo per ogni evento quindi sarebbero 40 milioni di libri 40 milioni di libri al secondo quindi effettivamente c'è la selezione è qualcosa di nuovo di incredibile rispetto e questo viene fatto anche ovviamente questa diciamo questa velocità non solo è dovuta al tipo di elettronica che usiamo e anche ai programmi che vengono vengono costruiti che vengono diciamo così scritti ma anche dall'utilizzo di fibre ottiche e questa è un'altra cosa che ritroviamo nella nella vita di tutti i giorni ormai tutti quanti parliamo di connessione con la fibra tutti quanti sappiamo che a casa se c'è la fibra il nostro la nostra connessione più veloce e qui noi la usiamo ormai direi da anni quindi mi piacerebbe anche dare un messaggio che è quello che imposti come il CERN non solo il CERN ma imposti come il CERN effettivamente siamo alle frontiere non solo della scienza ma anche della tecnologia cioè se a casa adesso noi siamo in grado di usare elettronica veloce per i nostri smart phone o fibre ottiche per le nostre connessioni lo dobbiamo anche a studi fatti decenni fa dove laboratori come il CERN hanno cominciato ad utilizzare queste queste diciamo queste soluzioni prima per la ricerca fondamentale per questi miliardi di dati da gestire e poi chiaramente questo viene distribuito a diciamo alla vita comune e ci tengo a sottolineare che per quanto riguarda il CERN non c'è brevetto cioè non c'è quello che si chiama il copyright quindi vuol dire che qualsiasi cosa sia stata inventata o prodotta qui al CERN per esempio il touchscreen è nato qui al CERN non solo quello che noi chiamiamo il web ma il touchscreen i primi prototipi vengono dal CERN e noi adesso ovviamente sono diversi sono moderni ma sono quelli che usiamo nei nostri tablet e telefonini bene sono stati dati gratis cioè il CERN non guadagna nulla su questo quindi il CERN è veramente un posto in cui la conoscenza viene sviluppata e distribuita arrivo alla mia parete preferita se preferite così vi lascio poi e scendo giù ed è questa che invece non ha cavi fibra ottica cavi normali ok ora questi cavi qui un attimo che magari tolgo il gancio così Noemi può inquadrarli vorrei perché mi piace questa parete non è per la funzione è chiaro sono cavi attaccati che trasmettono segnali nella mia carriera mi è capitato anche di dover fare quello che si chiama il cablaggio ora guardate ogni cavo contiene un'etichetta che lo identifica in maniera univoca ogni cavo vedete che viene segue una diciamo una strada e poi viene assemblato e raggruppato insieme ad altri ogni cavo alla sua propria lunghezza e questo perché non si possono tirare cavi altrimenti nella parte del connettore si rovina è un po' come se attaccate l'aspirapolvere e poi tirate il cavo e chiaramente l'aspirapolvere si trova si toglie via si sgancia dalla 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 rete quindi non funziona più quindi bisogna veramente fare un lavoro si direbbe in italiano certosino in cui ci si arma di pazienza e soprattutto di passione e si misura ogni cavo e vi assicuro che quando uno ha accablato come si dice anche soltanto una parte di questa parete e poi preme il bottone on e tutto funziona si sente soddisfatto voi potrete dire beh ma in fondo cosa hai fatto è attaccato cavi beh non è solo quello è la soddisfazione di aver fatto il proprio lavoro e fatto bene e poter continuare il giorno dopo a fare il resto quindi a me piace veramente vederlo come una metafora di una parte piccola del lavoro anche che deve essere capace e disposto a fare un un fisico poi ogni cavo deve avere anche la stessa la ogni cavo deve avere una giusta lunghezza perché essenzialmente se un cavo è troppo più lungo di un altro la veloce della luce appunto non è infinita è finita e i segnali quindi arriverebbero anche in ordine sparso invece devono essere sincronizzati scusa mentre ti sposti visto che il tempo sta scadendo qualche domanda dalle sale sì 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 prego anzi volevo anche ricordare che si possono fare le domande anche su zoom direttamente per chi per chi fosse con il nesso da remoto attraverso la funzione Q&A se c'è qualcuno in sala oppure anche da da Bari alza della mano posso suggerire una cosa Sonia pure sta vicino al al veramente molto vicino al rivelatore e si potrebbe vedere il campo magnetico l'ultima sì possiamo far vedere questo infatti è questo volevo dire questo perché anche perché io sono quasi arrivata alla fine del mio percorso e quindi poi il tempo che ritorno lo potete usare per le domande tranquillamente e rispondere mentre io torno su ditemi se posso oppure no però perché siamo oltre il tempo previsto sì il fatto è che abbiamo calcolato che abbiamo iniziato 15 minuti dopo per questo siamo un po' più lontani abbiamo iniziato e 15 perciò abbiamo calcolato che un'ora e quindi andavamo un po' più lunghi rispetto al tempo previsto ditemi se posso procedere oppure no e penso che sia la cosa più interessante che vedrete stasera quindi valga la pena ma non so il vostro tempo vado veloce sì vado veloce e facci vedere il campo magnetico poi mentre risali sì solo il campo magnetico spiegate soltanto magari zoltan poi a questa foto ve la fate e magari spiegate il fatto che l'ascensore da e dalla parte della della caverna di servizio e quindi è per questo il motivo per cui possiamo scendere perché gli altri esperimenti ce l'hanno nella nella caverna sperimentale quindi bisogna attraversarla e questo non è permesso dal CERN ma io preferisco adesso andare sulla parte sperimentale quindi ho questo oggetto qui che tutti riconosceranno che è una catenella di graffette effettivamente niente di più niente di meno e questo è un rivelatore di campo magnetico effettivamente ora capisco bene che voi che tutti noi ci facciamo un uso differente ma vedrete come io posso accorgemi che c'è un campo magnetico quindi seguite questa punta adesso io mi muoverò verso il rivelatore ovviamente non andrò sul rivelatore perché non posso entrare nella nella stanza ma andrò nel punto più vicino e cominciate a vedere che questa graffetta come vedete si muove e vedete che a un certo punto vedete viene attratta ora dove sono questo è l'effetto del campo magnetico guardate ve lo faccio vedere un po meglio guardate qua si vede posso anche attaccare le graffette qui come vedete e si mantengono allora cosa posso fare anche un'altra cosa perché adesso sono magnetizzate vedete queste si tengono allora cosa sta succedendo da questa parte qua proprio in questo angolo effettivamente a circa una trentina di metri voi vedreste questa figura qua cos'è questa figura è il rivelatore il famoso cilindro di cui parlavamo prima e il fascio dell'LHC che sta entrando siamo a circa 33 metri all'interno come vi dicevano eh Davide D e Davide V c'è il campo magnetico e ma chiaramente questo campo magnetico visto che siamo più lontani diminuisce e qui sentiamo soltanto il campo magnetico residuo ora non solo lo sento in questa maniera ma lo posso analizzare in quest'altra maniera allora questa parete non è magnetica ma le viti lo sono quindi guardate un attimo facciamo un pendolo eh un appassionato un fisico come me ci verrebbe verrebbe voglia di calcolare qual è il tempo di oscillazione di questa cosa ma io sono un tecnico per gli altri che non sono tecnici direi divertitevi sul fenomeno eh che già qualcosa possiamo fare quella che io chiamo la la bilancia magnetica questa mi è successa per caso mi sono ritrovata l'altra graffetta attaccata e questa e vi posso garantire ecco questa qua è una cosa che dovete credermi che entrando in risonanza cioè come vedete io spingo la la catenella la la catenella torna su io sento la catenella che mi spinge sopra la mano perché sento proprio l'effetto della forza magnetica che fa come da elastico e mi rispinge su ora uno potrebbe dire va bene ma perché lo chiami rivelatore rivelatore questo qua perché questo oggetto se io potessi sapere quant'è il campo magnetico che corrisponde a ciascuna graffetta e non lo so semplicemente perché non mi sono mai messa d'accordo per poterlo calibrare come si dice questo oggetto ma si potrebbe fare potrei dire che a questo numero di graffette ora non so quante sono una due tre quattro cinque sei sette otto e nove corrisponde un certo campo magnetico all'interno potrei fare una cosa ma purtroppo non ho tempo aggiungere altre graffette vedere fino a quando questa catenella se la metto così cade per terra perché se cade per terra vuol dire che è troppo pesante e quindi il campo magnetico che sta in questa zona che viene dal rivelatore non è sufficiente per mantenerla in questa maniera io una volta e questo è un fatto ho scoperto che c'era un problema col campo magnetico ovviamente lo sapevano già i miei colleghi ero io che non lo sapevo perché volevo fare questa cosa non ci riuscivo mi cadeva per terra mille volte quando ho finito poi ho capito che era il peso quindi ho rimosso un po' di graffette ha funzionato sono andata dai colleghi della sala di controllo e ho chiesto ma scusate perché cosa succede col campo magnetico e loro mi hanno detto ma tu come lo sai io ho detto beh lo so perché stavo facendo le cose con le graffette non funzionava e mi hanno detto abbiamo avuto un problema questa mattina e abbiamo dovuto diminuire della metà il campo magnetico quindi effettivamente questo oggetto pur essendo semplice pur non essendo un misuratore ok permette di far vedere il campo magnetico vi faccio vedere altre due cose velocemente poi lascio la linea per le domande per chiudere vediamo un po' così e un'altra cosa è quella del dove ho messo il mio telefonino non lo so più eccolo qua e quest'altra cosa che tutti riconoscerete che cos'è questa e questa è una bussola ok ora la graffetta si sta il campo magnetico è possibile visualizzarlo attraverso delle linee per esempio se avessi della limatura di ferro e un pezzo di un foglio di carta bianca le linee si metterebbero seguirebbero il campo magnetico esattamente come fa questa graffetta questa graffetta si sta orientando mi indica la direzione del campo magnetico che come vedete a seconda di come mi muovo cambia ok ora io potrei dire beh no la voglio mettere la graffetta a 90 gradi rispetto alla posizione guardate non ci sta scusate questo non voleva essere voglio lo schermo nero non ci sta lo vedete è proprio perché il campo magnetico la costringe a stare allineata può stare solo o allineata in questo senso o allineata in senso opposto ma non può stare a 90 gradi detto questo ultima cosa nata sempre da un problema che ho avuto qui cercavo questa mia famosa catenella e non la trovavo allora cercavo in questa bustina dove vedete ho una dotazione di graffette mia personale pensavo di averla trovata perché in questa posizione vedete le graffette sono tutte quante magnetizzate ho detto ho trovato la mia catenella in realtà non lo era sono tutte quante staccate quindi l'ho tirate fuori e mi sono cadute tutte per terra ora qui è vero che c'è una zona metallica ma qui è cemento vi riproduco quello che è successo non posso fare esattamente la stessa caduta perché non ho tempo ma vi riproduco quello che ho visto allora quello che mi è successo è la cosa seguente guardate le graffette mi si sono disposte così e guardate questo succede anche sul pavimento non succede soltanto e succede sul bordo ma succede anche sulla sulla placca metallica quindi che cosa ho fatto quando ho visto questa cosa qui mi ha talmente incuriosito e divertito adesso le fermo un attimo che al posto di dire a raccolgo le graffette perché ho combinato un guaio quello che ho fatto innanzitutto ho cercato di vedere se si muovevano facendo vento vedete cerco di fare un po di vento ma vedete che queste non si muovono quindi non è una questione di equilibrio ma se io adesso prendo una graffetta come questa qua e provo andarci vicino guardate che succede e non le sto toccando eh le sto semplicemente questo è il praticamente sto agendo sempre con la forza magnetica ok le vedete come oscillano anche qui queste oscillano e posso anche raccogliere vedete una maniera diciamo così comoda di raccoglierle se non fosse che una volta uno studente che era qui in visita mi ha detto bene vorrei provare anch'io dall'altra parte dall'altra parte della della zona quindi ho provato e le volevo passare e quello che è successo come vedete sono cadute che cosa vuol dire questo mi sta indicando di nuovo una misura non numerica ma qualitativa cioè mi sta indicando che nella zona dove le ho raccolte il campo magnetico era più intenso mentre qui il campo magnetico non è sufficiente e le mie graffette sono di nuovo cadute per terra quindi questa è un'altra evidenza che degli oggetti così semplici che usiamo a casa possono in realtà essere rivelatori di fenomeni fisici ed è anche un'evidenza come nonostante io non stia parlando di equazioni che descrivono eh di formule matematica che descrivono tutta questa situazione si possa comunque diciamo così ci si possa divertire e realizzare il fenomeno fisico mi fermo qui perché come vedete non posso andare oltre questa sarebbe la porta per accedere alla sala sperimentale dopo un corridoio che si che si che si che va verso sinistra forse lo riuscite a intravedere da questa parte qua eh purtroppo non si può entrare perché stiamo facendo fisica e oltretutto con gli ioni di piombo eh quindi direi che lascio la parola in questo momento ai miei colleghi in superficie eh io torno su eh se ci sono poi domande per me magari quando salgo su ne parliamo va bene sì possiamo fare la Q&A qualche domanda sì a noi comunque cioè nel senso possiamo andare avanti all'infinito abbiamo solo toccato la superficie delle cose interessanti ok allora dal dal vivo vediamo se dal vivo c'è qualche domanda anche domande non su cioè anche fisica di particelle fisica di acceleratore altre tipo di fisica come la nostra vita qualsiasi cosa che volete sapere noi vi rispondiamo come il caffè come la pizza rispondere alle domande qualsiasi vi sento posso rispondere mentre torno anche se velocemente abbiamo una domanda qui da da Pisa prego sì prego volevo sentire da Bari il magneto può imprensare le bussole se anche in superficie vengono sentite da Bari sì abbiamo abbiamo capito la domanda allora ha chiesto essenzialmente se anche diciamo se anche in superficie c'è un effetto residuo del campo magnetico il campo magnetico decade quadratico del quadrato della distanza ovviamente quando stai molto lontano ogni cento metri già non lo puoi più sentire esatto sono sufficienti diciamo una trentina di metri e poi appunto tutto il terreno aggiungerei anche una cosa mi sentite? mi sentite? sì sì no aggiungerei anche una cosa che in realtà quello che noi abbiamo sentito abbiamo visto eh non abbiamo solo sentito abbiamo proprio ovviamente rivelato anche come vedete lo sono è un campo magnetico residuo che è semplicemente l'espressione di qualcosa che noi non riusciamo a contenere perché di fatto se potessi fare un esempio diciamo che il famoso cannolo di cui vi parlavo che se lo vedeste così sarebbe una circonferenza e se lo girate di lato vedete in realtà il famoso campo magnetico all'interno e che va all'interno yes e che va all'interno in realtà noi mettiamo del ferro tutta quella parte rossa che Davide D e Davide e Vivi possono mostrare per piegarlo indietro quindi in realtà noi vorremmo che il campo magnetico restasse tutto quanto contenuto intorno all'esperimento chiaramente non siamo capaci al cento per cento di farlo quindi quel po' di campo magnetico residuo che ci avanza e quello che avete visto con le graffette prego la parola a voi se c'è qualche domanda da Bari sì qui non vedo altre mani alzate non siate timidi arrivano ci c'è una in fondo alla sala basta partire poi cominciamo eccoci poi direi un'altra domanda e poi dobbiamo chiudere perché siamo veramente oltre non so di quanti scusate siamo venti e due minuti oltre ma spero che vi è piaciuto sì sì mi aspettate per i saluti? sì sì sono già sopra sì 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 domande le prendiamo noi rimolle le domande sì stavo semplicemente dicendo che non devono essere timidi che le domande le devono fare sì sì ce l'abbiamo una ce l'abbiamo una diciamo chiaramente noi lavoriamo per questo esperimento ma non siamo da soli è una collaborazione di circa 5.000 persone quindi se volete è un esperimento anche sociale nel senso che ognuno di noi può fare davvero una piccola parte di questo lavoro e quello che succede è che ognuno di noi fa una una piccola parte che può essere sia analisi dati quindi essenzialmente analizzare quello che succede all'interno del rivelatore guardare queste collisioni e studiarle per estrarre informazioni sulla fisica quindi cercare di capire nuovi processi nuove particelle e nella pratica si tratta di scrivere molto codice di scrivere molto analisi dati di fare del machine learning quindi di utilizzare le tecniche di molto computer diciamo d'altra parte c'è tutto un altro tipo di lavoro che è quello più legato all'hardware quindi costruire rivelatori misurarli portare questi rivelatori davanti a un fascio di test quindi davanti a un a un fascio di protoni per testarli questo è un lavoro molto anche più ingegneristico anche più diciamo pratico non solo al computer e poi abbiamo anche altri tipi di lavori che può essere quello ad esempio di quindi diciamo la nostra vita è soprattutto una vita di analisi dati e di interazione con molti altri colleghi ed esperti invece chat window chat no 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 ok va bene sì sì perché ti sento ti sento pochissimo non so perché va bene quindi volevo soltanto fare una cosa sì innanzitutto ringraziarvi io non so se si vede questo se si può inquadrare purtroppo essendo l'acceleratore in funzione avete capito che non è potuto andare proprio nella sala delle collisioni perché c'è la tradizione beh mettiamola così che normalmente quando si entra nella sala normalmente quando si entra nella sala non non c'è il campo magnetico acceso e quindi non avremmo potuto fare le dimostrazioni col campo magnetico ci sono casi in cui abbiamo entrambi ma diciamo che è molto raro per cui avete visto un'altra cosa questa è una buona scusa per poter venire a visitarci nel momento in cui si apre l'esperimento che sarà appunto da dicembre da dicembre dovrebbe aprirsi perché il 30 l'anno scorso si è aperto a dicembre ma insomma diciamo nell'inverno nell'inverno in maniera tale da poter venire e visitare l'esperimento il QR code che vi mostravamo e che probabilmente potrete ritrovare sulla registrazione lo potete flashare c'è una pagina web dove potete mettere i vostri commenti per aiutarci a migliorare le visite e niente io vi saluto aggiungendo che questa vita sia un esperimento sociale sicuramente per noi divertimento direi che noi ci riteniamo fortunati noi in effetti lavoriamo no non lavoriamo ci divertiamo esatto questo è sicuramente una cosa interessante magari può essere anche di ispirazione per i nuovi giovani per i giovani che vogliono intraprendere una carriera di questo genere anche non semplicemente una carriera accademica ma anche come tecnici qui ce ne sono moltissimi come ingegneri come fisici chimici ci sono varie figure non è che bisogna essere ci sono anche biologi ci sono anche avvocati abbiamo bisogno di medici insomma tutti venite grazie buona serata ciao a tutti ciao buona serata ci sento però possiamo rispondere buona serata Grazie a tutti